buongiorno a tutti i signori e signori sono ronny il buonio polverici un collegamento esclusivo mondiale interplanetario unico al mondo molto probabilmente ebbene si con la casa del grande augello top e ricordati se l'unico a mancare tu e qualcun'altra vabbè a parte questo ci andremo ora collegare proprio con lui il nostro il vostro l'essu ma più che l'essu vorrei dire proprio di pasta frolla ebbene si amico rudy che pare abbia fatto un giro non ancora sentiamo lui sentiamo dice rudy buongiorno buongiorno a tutti i signori buongiorno a vostri dipende dal futuro audio e buongiorno buonasera secondo il vostro angolo è vero sono stato a fare un giro un giro in un po' codinci ho fatto un giro in un po' che poi è diventato ronocchia a parte questo sono stato in zona con sud grosso modo sono stato da giampaoli giampaoli dolci giampaoli giampaoli e ho comprato questi meravigliosi biscotti al cocco una cosa veramente assurda vi giuro che sono a zuppa e poi maniato un po' codinci veramente assi sto degustando sto degustando questo biscottino qua dentro la casa del grado giallo veramente innanzitutto non ho fatto la confezione qua biscotti al cocco con goccia di cioccolato della giampaoli veramente presi in ancora un po' codinci una cosa veramente migliosi video da inglesza top come nella casa del grado giallo Google Google